Piazza della Badia ha bisogno di essere tutelata e il comune deve capire che i locali ci sono e che deve fare in modo di aiutare i locali a svolgere le loro attività senza preoccuparsi di eventuali aggressori o aggressioni varie. Di certo farsi giustizia da soli non è il modo adeguato per fare le cose. E' per questo motivo che ha deciso di incontrarci in Piazza della Libertà di fronte al Palazzo Comunale il barista che nel fine settimana è stato aggredito nel tentativo di difendere un suo cliente. Il violento episodio si è consumato in Piazza della Badia, un angolo della città dove soprattutto nel fine settimana si concentra la movida cittadina. Tutto è iniziato attorno alle 2 quando senza un motivo apparente un uomo si è scagliato contro un cliente del locale dandogli un cazzotto. Io sono intervenuto ovviamente perché hanno iniziato anche a lanciare tavoli, sedie e tutto quello che trovavano. Ho separato i due gruppi, i suoi amici sono intervenuti subito per metterlo in sicurezza e io ho cercato di portare queste altre persone, sviarle dalla piazza in modo che la cosa finisca lì. Dopo però siccome non è la prima volta che capitano atteggiamenti del genere da parte di queste stesse persone, ha chiamato la polizia. All'arrivo delle forze dell'ordine però il secondo round. Una volta che la pattuglia ha girato l'angolo questa persona ha visto che lo indicavo alla polizia, mi è venuto addosso e questo è il risultato. Ho 5 punti sotto la palpebra sinistra e un dente scheggiato. La polizia ha fermato e portato in questura l'aggressore che è stato identificato e denunciato anche perché è trovato in possesso di un'arma da taglio. Non mi sento tutelato e sono sicuro che questa cosa che ho subito non avrà nessun effetto perché tra una settimana torneranno a dare fastidio alle persone. La piazza negli ultimi anni è stata spesso sfondo di episodi di violenza e criminalità come denunciato in più occasioni dei residenti ma il giovane imprenditore non ci sta ad incolpare i commercianti. Io sono qui per farmi anche portavoce delle migliaia di ragazzi che comunque vengono a rilassarsi il venerdì e il sabato sera. Una persona di quell'età lì deve poter andare dove vuole, mettersi a sedere e avere tutta la libertà di poter bere in santa pace senza che nessuno gli vada a dire che non può farlo o senza che nessuno vada lì e gli dia un cazzotto così senza motivo. Hai paura di riaprire il locale? Sinceramente sì.